Sistemazione del terreno di gioco e dell'impianto di illuminazione che deve necessariamente passare a 800 lux. Sono queste le priorità dell'amministrazione comunale per un primo adeguamento dello stadio Franco Fanuzzi alle prescrizioni della Lega Pro per il prossimo torneo di Serie C dei Biancazzurri e quanto emerso dall'incontro tra la società e il sindaco Pino Marchionna. Il primo cittadino in queste ore sta incontrando i dirigenti del comune per studiare tutte le soluzioni possibili dal punto di vista economico e logistico. Giovedì prossimo 8 giugno invece saranno a Brindisi rappresentanti di una società della Lega specializzata sui terreni di gioco per entrare nello specifico su quello del Fanuzzi e stilare il cronoprogramma degli interventi. Resta in deroga invece l'installazione dei sediolini sui lati lunghi dell'impianto sportivo vale a dire tribuna e gradinata. Ci sarà tempo fino al 1 febbraio 2024. Sul fronte relativo invece alla composizione societaria venerdì scorso si è tenuta un'assemblea dei soci. Ci sono novità. Il 25% delle quote che erano ancora nelle mani della Per Brindisi e dell'ex presidente Francesco Bassi sono state cedute alla famiglia Rigliano e dovrebbero essere acquisite dal socio Teodoro Rigliano che al momento deteneva il 5%. Uscirebbero così definitivamente di scena Bassi e Co. Anche se pare che la presenza dei tifosi in società potrebbe essere ancora una volta rappresentata da un'associazione, questa volta nuova, con funzione di controllo.